Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come saprete si sta avvicinando Halloween e per non farvi trovare impreparati a questo evento vi consiglierò una lista di 10 oggetti utili ad organizzare una bella festa di Halloween. Gli oggetti sono tutti venduti su Amazon in quanto è un sito sicuro e veloce a spedire e soprattutto è un sito italiano quindi eviterete problemi riguardanti la dogana. Ma adesso andiamo a vedere questi 10 oggetti. Come primo oggetto voglio consigliarvi un bel proiettore di immagini riguardanti Halloween. Questo proiettore può essere posizionato sia all'esterno permettendo così di proiettare immagini paurose sulla facciata della vostra casa ma anche all'interno di una stanza nella quale magari si terrà la festa creando così la giusta atmosfera. All'interno della confezione troverete il proiettore, una batteria ricaricabile, un cavetto USB per la ricarica del proiettore, un treppiedi per posizionare il proiettore ovunque vogliate e ben 12 diapositive da proiettare. Le diapositive non riguardano soltanto Halloween ma riguardano anche altre feste come ad esempio il Natale, i compleanni, San Valentino, il giorno del ringraziamento, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quindi comunque la spesa di 19,99€ con spedizione gratuita, sempre avendo Prime, è comunque giustificata in quanto potrete usare questo proiettore per tutte le occasioni. Il secondo oggetto che voglio consigliarvi sono queste lucette led a forma di zucca. Si tratta di 20 zucchette, 20 led, da poter posizionare dove più vi piace sia all'esterno che all'interno di una stanza nella quale si terrà la festa. La cosa positiva è che funzionano a batteria, occorrono tre batterie AA, quindi non bisogna collegarle ad una presa di corrente, possono essere posizionate veramente ovunque. Eccole qui, possono essere usate sia a luce fissa che all'intermittenza, hanno un basso consumo. Il colore è bianco caldo, quindi in realtà è giallo. Il prezzo è di soli 12,99€, spedizione gratuita con Prime, quindi anche questo un prodotto consigliato per creare la giusta atmosfera. E dopo aver imbandito la vostra casa di luci e immagini proiettate sulle pareti, è il momento di creare una bella tavolata e quindi vi consiglio una tovaglia a tema Halloween. Si tratta di un panno totalmente traforato, strappato, eccolo qui da vicino, di colore nero, come una sorta di retina, il materiale è poliestere e le misure sono di 75 x 300 cm. È ottima per creare un'atmosfera ancora più paurosa, pensatela in bandita con cibo e altri gadget paurosi, creerà davvero una bella atmosfera. Il costo è di 10,99€, spedizione gratuita con Amazon Prime. Ed ecco che è arrivato il momento di posizionare qualcosa sulla nostra bella tavolata e cosa c'è di meglio di una bella bottiglia a forma di teschio, con annessi 6 bicchieri sempre a forma di teschio. I bicchieri e la bottiglia sono realizzati interamente in vetro, trovo che sia un'idea geniale, per Halloween sono sicuramente perfetti, farete un figurone con questi. Il costo non è nemmeno elevatissimo, considerando che si tratta di una bottiglia in vetro e 6 bicchieri sempre in vetro, ha 19,99€ spedizione gratuita. La bottiglia è da 700 ml, mentre i 6 bicchieri sono da 75 ml ciascuno. Molto molto bella, questa ve la consiglio davvero tanto. Ma ad una festa che si rispetti occorrono tante, ma tante bevande, quindi tanti altri contenitori. Cosa c'è di meglio allora di questi 10 contenitori a forma di borsa per trasfusioni di sangue? Questi sono davvero inquietanti, però trovo che sia un'idea davvero originale, sicuramente farete un figurone con queste bottiglie, soprattutto se all'interno inserirete del liquido rosso che potrebbe sembrare del sangue. Fa un po' impressione, però è davvero una bella idea. In questo pacchetto ne usciranno ben 10 da 350 ml, quindi potrete sbizzarrirvi con le bevande, e il prezzo è di 14,99€ per i 10 contenitori. Spedizione gratuita con Amazon Prime. E dopo le bibite si passa al cibo. Sulla vostra tavola potrete mettere questi 4 calderoni neri in 3 diverse misure, ce ne sono uno grande, un altro medio e due piccolini. All'interno dei calderoni potrete mettere le vostre pietanze, per lo più caramelle, dolcetti, ma anche patatine, insomma, quello che solitamente si mette alle feste di Halloween. Ecco qui, questo è un esempio di caramelle a forma di insetti. Ritengo che sia un'idea molto, ma molto originale e renderà la vostra tavola ancora più particolare. Il prezzo è di 13,49€, spedizione gratuita con Amazon Prime. Un altro oggetto che voglio consigliarvi sono questi 132 pezzi di insetti in plastica realistici. Si tratta di insettini di piccole dimensioni come ragni, scarafaggi, vermi, topi, da posizionare un po' sparsi in giro sulla tavola. Ecco, questo è un esempio, ma anche in giro per casa sul pavimento, in modo da creare un'atmosfera ancora più orrida. Fanno un po' impressione. Il prezzo è di 11,59€, spedizione gratuita per ben 132 pezzi. Vi potrete sbizzarrire e metterli ovunque sulla tavola per dare quel tocco in più. Tavola a parte occorrerà dare alla vostra festa un aspetto ancora più macabro. come farlo se non con un set di teschio e ossa da ben 18 pezzi. All'interno di questo set, racchiuso in un sacchetto, troverete un teschio e ben 17 ossa di misura, di misure assortite. eccole qui, sembrano davvero realistiche. Queste potranno essere messe in un angolino della stanza tutte insieme oppure sparse qui e lì all'interno della vostra stanza e renderanno davvero un'atmosfera particolarissima. Il prezzo è di 14,99€, spedizione gratuita con Amazon Prime. Ma quale elemento non può mancare in una casa dell'orrore se non un bel set di ragnatele con annessi ragni, ben 25 ragnetti neri, insieme a delle ragnatele da appendere un po' sparse in casa? Si tratta di un set completo con 25 ragni di plastica. I ragni sono facili da attaccare alle ragnatele. il prezzo è di soli 8,99€, spedizione gratuita. Qui vi faccio vedere qualche immagine per rendere l'idea. Credo che queste daranno davvero un tocco in più alla festa e il prezzo non è nemmeno eccessivo. E come ultimo oggetto non può mancare il più tradizionale e rappresentativo di tutto Halloween e cioè la zucca. Con questo kit da intaglio potrete creare la vostra zucca di Halloween. All'interno del kit troverete degli scalpelli, delle punte per realizzare la vostra zucca e insieme a questi quattro attrezzi avrete a disposizione dieci pezzi adesivi per creare la vostra zucca. Ecco qui questi sono i dieci modelli presenti all'interno quindi grazie agli adesivi potrete creare le zucche in modo facile e sarà anche una cosa molto divertente da fare insieme ai bambini per realizzare la vostra zucca personalizzata. Il prezzo dell'intero set è di 7,99€, spedizione gratuita ma è comunque una cosa che vi resterà e potrete utilizzare ogni anno. Ok ragazzi questo video consiglio per gli acquisti è giunto al termine spero vi sia stato utile spero vi siate divertiti con me a guardare questi oggetti a tema Halloween. Se vi interessano come al solito vi lascerò tutti i link per l'acquisto di ogni singolo oggetto nelle informazioni del video. Vi lascerò inoltre tutti i link ai nostri social e vi invito a seguirci ad Instagram, Facebook, Twitter, Google che troverete sempre in descrizione. In particolare vi invito a seguirci su Instagram dove siamo davvero molto attivi postiamo tutte le volte le immagini riguardanti gli oggetti che pubblichiamo nei video. Il nostro account è real-unboxing dove abbiamo raggiunto i 3000 follower e puntiamo adesso ai 4000 quindi seguiteci e vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina che trovate qui in alto a destra per ricevere le notifiche riguardanti tutti i nuovi video che usciranno e non perderne mai uno. Ok se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. Per il video di oggi è tutto, alla prossima!